Ciao a tutti, vi voglio presentare oggi questa Gretsch 6120, è un modello particolare della Hedy Cochrane, unta un P90, un pick up di Armond al punta. Ora vi faccio sentire la posizione al manico. Ora ho completamente aperto. Torno un po' chiuso. Ok, posizione centrale. Questa nel ponte è quella più brillante. Ciao.